No ragazzo qua vi giuro letteralmente il grau, clamoroso Oddio no ragazzi che fa testa roba vi prego Clamoroso Andre raga, unico al mondo che lavora meglio, performa meglio, lavoro da ubriaco Adesso sto qua tutto il tempo e non mi muovo da qua giuro Questo ragazzi è un'arma che ho buildato io, che è esattamente uguale al grau Ma dove cazzo sono i nemici? Un cecchino che non hit marker esiste? Fica, tutti Non ho ancora visto uno cecchinare e fare hit marker da quando ho preso Modern Warfare Attenzione raga che adesso Roby è incaronito e finalmente riuscirà a fare le sue prime dieci bombe in multi Let's go with the try yarding Hai Roby G, tre bombe fino adesso eh No ragazzo qua vi giuro letteralmente il grau, clamoroso Devastante Mi hanno detto che prima stavi flexando Roby Minchia diam, io te lo giuro Tuo padre doveva prendere un bastone e tirartelo sui denti quando eri nato Invece di prendere minchia l'SPX a girare col VLK in giro per la mappa Dio Cristo Incredibile oh, incredibile i cecchini quanto sono forti E mi hanno detto che facevi il figo Facevi il figo Roby Dicevi che tu 30 bombe te le fai nel chilling Che in realtà Roby ne aveva mai fatte prima d'ora 30 bombe in un game eh Adesso quando il gioco si fa duro Andrew prende le armi E tu sei un duro Andrews Cioè io la mia partita ragazzi letteralmente rovinata da uno che c'ha Vi giuro non dico cosa cazzo è perché non posso dirlo Ma è incredibile che aveva ucciso due volte lui col cecchino Sono tipo a 20 di fila ero adesso C'era uno al bancone e uno nel recinto Oh smesso di sparare Mi cazzo te sembrava Sembrava topolino Ma chi è che era? E ti faccio un drink Cosa che la dici? Un cognac? Che ho bisogno Arriva 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 Ma però ci tengono la vittoria eh Porco diaz Ah vabbè dai Tobi Von Kanubi Cosa? Tobi Von Kanubi Tobi Von Kanubi Tobi Von Kanubi ragazzi C'hai piedi piantati Però ragazzi un elogio Alla partita di Andre lo farei eh 12 bombe in 20 minuti Una media di 0,5 kg al minuto Un piccolo elogio lo farei ragazzi Quanto è bello raga Quando hai le palle E il pene appiccicati Te li stacchi Guarda dove era Guarda che ignobile dio caro Strisci perché sei un verme Che l'unica cosa che puoi fare nella vita è il verme L'MCPR 300 Dai bastando Gioco Roby ricordati Ricordati che il gioco Roby Lo rovinano gente come te Che usano il cecchino Perché è imbarazzantemente forte Ma come fai a dire che il cecchino è scarso Che è insano su sto gioco Ma raga ma state scherzando Ma voi avete idea di che cazzo di arma è il cecchino Che rovina il multiplayer No non è forte Ma va no È scarso Adesso solo che c'era uno Che girava con la carabina Raga che sembrava Terminator Cioè no il cecchino è scarso ragazzi Sono solo morto da cecchini La parità di prima hai tratto una nuke Se non ci fosse stato il cecchino di mezzo a rompere i coglioni Cioè Roby non è che se tu non sei tanto bravo a usarlo Allora è l'arma scarso Ogni tanto puoi anche essere umile E dire magari non sono tanto bravo io Tutto qua No insultare Minchia Eh Roby Oggettivamente stai sminuendo un'arma Che invece in gioco C'è gente C'è gente che non dorme la notte per i cecchini Roby Cioè tu li stai facendo credere matti Capisci È scarso il cecchino Ma porco dios Fai vedere sta kill raga Ma cosa sto usando adesso Allora siamo tutti matti noi Siamo tutti matti noi Siamo tutti matti noi Non so da prendere un martello eh ragazzi Da prendere un martello Isolo bene la palla destra E me la premo Rai di un forte Che tanto sarà comunque più divertente No nade Mi è arrivata una nade in mano Da Brandon Figa Brandon raga Bello come nome il Brandon Ma va raga ma fidatevi che Le avete buildati male Perché da un colpo C'è uno in sta parita che sta usando L'SPX raga Che da un colpo E gira sulla mappa Come se fosse S&P50 uso Senza mirino Senza un cazzo Ma farò minacere Cristo Dio Questo è il Gorongeli Spawn Mi sono ammazzato da solo Oddio no ragazzi Clippate sta roba Vi prego cosa io ho fatto A questi cinque coglioni Col culo clipi Quello che ho fatto A questi cinque qua raga Vi prego Ragazzi Quasi Clippatela sta roba Per piacere Scusate che ve lo chiedo Porca puttanaccia Maiala impestata Lurida Bella sa canzone Jelliot Bravo Jelliot Bravissimo Sarei rimasto premato Un altro quarto d'ora Però Jelliot Che se per caso Andavo via da là Magari stavi per dieci minuti A aspettare che uscissi Do it faster May so stronger Vado figa Io l'ho attaccata Che mi ammazzano Col puntino rosso in testa No raga Se faccio il conteggio Degli assist Che ho fatto in sta partita E li sommo Ho tirato tre nuke Probabilmente Oh ragazzi ma Se fai un bel giretto In centro a Bagdad Gira meno nade Che in quella In lì raga Giuro Follia Cioè Follia Una pistoletta Ti da due colpi In assalto Te ne deve dare quattro Che cosa è imbarazzante Beh invece lo scar A colpo singolo Che ne da uno Ha senso No no ma il discorso Tra pistoletta E assalto Non c'è differenza È ridicola E invece ti ripeto Robby Che lo scar automatico Ne dia quattro E quello singolo Che è uguale Ne deve dare uno Ha senso Ma come fa a star C'è la stessa arma Che cazzo stai dicendo Robby Come fa a star C'è non ha senso Praticamente un'arma identica Automatica Te ne servono quattro A colpo singolo Uno Che senso ha È bella perché Una volta Ma tu avevi avuto Quello di dire Che è anche bella Una volta Robby Ma chi cazzo Ha quello di dire Che è bella Tu a me una volta Hai detto Che questa mappa Non è neanche male Ma hai detto Comunque sto co Ragazzo a R Io lo ripeto Lo ripeto Lo ripeterò all'infinito Clamo Rosso Ok a R No ho buildato un luck Ma non ti giuro Sembra il grau Di Warzone Una roba folle Folle Col VLK Una bomba C'è qualche roba Raga Guardate che roba Sì sì No beh che uso il cronus L'ho sempre detto io ragazzi Amo facilitarmi la vita Per guadagnare più soldi In maniera illegale Era palese raga qua Forse questo Devo togliere il VOD Mi sa Qua devo levare il VOD E ho fatto una roba Che secondo me Era un po' troppo palese Qua sì raga Qua devo levare il VOD Mi sa No raga Qua devo levarlo Minchia qua Robby Ho sgarrato Mi sa Qua mi sa Ho sgarrato Ho fatto 18-43 Ho fatto il record Andre veramente Hai fatto 18-43 Sì 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 Perché Allora carico Provo l'arma più forte del gioco Con il compagno più scarso La intitolò così il video Grazie mille Grazie mille